L'amore sorprende, l'amore non si arrende, l'amore accende. Queste sono le tre affermazioni su cui probabilmente mi voglio soffermare alla luce di questo giorno santo, il giovedì santo, il giorno della commemorazione dell'ultima cena e della lavanta dei piedi. L'amore sorprende, in fondo Gesù Cristo non fa nient'altro che sorprendere nel contesto dell'ultima cena, ma nel contesto di tutta la sua vita. Un amore, amore perché sorprende l'altro, perché esce da ogni criterio, da ogni logica, da ogni aspettativa, ma c'è anche un altro elemento, l'amore non si arrende, non saranno le resistenze, non saranno le opposizioni, le incomprensioni ad arrestare l'amore, anzi soprattutto nel tradimento, nelle incomprensioni, l'amore non si arrende ma mostra tutta la sua forza. E infine l'amore accende, perché è chiaro, quando l'amore vero accende i cuori e non a caso l'amore di Cristo è arrivato sino agli estremi confini della terra e tuttora tantissimi lodano e proclamano il nome di Gesù Cristo, che il Signore ci doni in questo giorno santo di fare l'esperienza della nostra carne di un amore di Cristo che sorprende, che non si arrende e che accende i nostri cuori e di tutti coloro che il Signore ci pone sulla nostra via. Buona missio.